Silenzio, raccoglimento, sono delicatissimi loro, non è che fanno chiasso. Padre Pio infatti li vedeva come dei fasci di luci stupendi. Posso raccontare questo episodio di Padre Pio molto interessante, che una volta un sacerdote francese, negli anni critici appunto dell'angelologia, andò a confessarsi da Padre Pio e gli disse Io, caro padre, non credo agli angeli. Padre Pio ha dato uno schiaffetto e gli ha detto Ma come? Guarda com'è bello dietro di te l'angelo tuo costone, bello. Forse l'avrà visto in questa pienezza di luce celestiale, quindi esistono. Anche San Francesco. San Francesco, ma anche tanti santi, proprio il santo curato d'Ars, ma anche altri santi che avevano questa devozione e camminavano sempre con la consapevolezza che al loro fianco c'era quest'angelo custode, che era il loro miglior amico, che li assistiva, li custodiva, li liberava dal male, anche l'angelo custode praticamente. L'angelo suggerisce sicuramente dolcezza, grazia, bellezza, levità, però deve suggerire...